Buon pomeriggio a tutti, bentornati a Siamo Noi. Ho sentito i cuori palpitare all'unisono con il mio. Sono le parole bellissime di Giovanni Battista Scalabrini che domenica prossima, 9 ottobre, a San Pietro verrà proclamato santo. L'apostolo degli emigranti, quando a lasciare casa e famiglia eravamo noi italiani, milioni di emigranti, un uomo sempre della parte degli ultimi. Allora, ben arrivato e grazie perché qui a padre Giovanni Terragni, missionario scalabriniano, responsabile del vasto, preziosissimo Archivio Generale Scalabriniano. Padre Giovanni, benvenuto. Grazie. Padre Giovanni, tra poco cercheremo di far capire bene al nostro pubblico chi è Giovanni Battista Scalabrini. Però io nel frattempo vorrei soffermarmi con lei sul fatto che a comprendere la grandezza, la portata preziosissima dell'opera di Giovanni Scalabrini è stato un altro santo, San Giovanni Paolo. E sicuramente questa figura è particolarmente cara anche a chi è figlio di immigrati, Papa Francesco. Sì, diciamo che Papa Francesco ha voluto mettere in luce questa figura, quella di Scalabrini, per la sua attività per gli emigranti. In un tempo in cui nella Chiesa, nella società, trovava una soluzione per seguire i nostri connazionali all'estero, Scalabrini si fa avanti e dice mi presento io, do la mia disponibilità. E Papa Reuno XIII gli suggerisce di preparare un progetto per la cura degli emigranti. Perché Scalabrini aveva conosciuto l'emigrazione in famiglia, con due fratelli che erano emigrati. Da parroco a San Portolomio di Como aveva visto spopolarsi la sua parrocchia e da vescovo proprio aveva notato, ha fatto un'indagine, che il 12% era già partito per l'emigrazione. Era il vescovo di Piacenza, ricordiamolo. Siamo nell'Ottocento, siamo nella seconda metà dell'Ottocento ed è stata la sua un'opera enorme. Possiamo anche ricordare Padre Giovanni, lei lo accennava, tantissimi italiani che sono emigrati, italiani che venivano anche denigrati, guardati con sospetto, si usavano appellativi dispregiativi, venivano uccisi perché ci furono vari episodi, i più gravi due in successione, in Louisiana, prima New Orleans e poi a Tegliula, furono uccisi 16 italiani in tutti e due gli episodi e addirittura Scalabrini decise che bisognava rivolgersi direttamente al Presidente degli Stati Uniti, Theodore Roosevelt. E difatti Monsignor Scalabrini andò da Presidente Roosevelt e parlò chiaramente di quanto aveva visto, di quanto sapeva, in difesa degli emigrati. Lì lei ha citato New Orleans. A New Orleans era presente il nostro padre scalabrignano, padre Gambera, che ha visto la situazione, l'ha notificata, l'ha descritta Scalabrini e così in tanti posti dove ci sono state tragedie contro i nostri connazionali, contro gli emigrati italiani, erano presenti gli scalabrignani. a Marsinel, come in Virginia, nelle miniere di Monogà, erano presenti. E questo significa che la presenza nostra era significativa, non solo per le famiglie, per consolare, ma era una presenza che condivideva la vita con le emigranti. Ecco, le cose che ha intuito, compreso e anche comunicato al mondo, alle autorità scalabrini, sembrano riattraversandole modernissime, adatte all'oggi. Tra l'altro scalabrini veramente allertò la società del pericolo rappresentato da chi faceva soldi sulla pelle dei migranti. C'erano le agenzie dell'immigrazione che promettevano quello che non poteva essere mantenuto. Il paradiso in terra a questi poveri migranti. Le parole più dure scalabrini le ha riservate a questi agenti e subagenti di emigrazione, sensali di carne umana, eccetera, eccetera, che illudevano appunto gli emigranti, li costringevano quasi ad emigrare per trovare il Dorado. Invece si trovavano in situazioni tremende, sia quando arrivavano lì a Ellis Island, negli Stati Uniti, sia quando arrivavano in Brasile, dove non sapevano dove andare, con chi andare, le famiglie venivano separate. Una tragedia all'arrivo delle migranti nella terra straniera. Non conoscevano la lingua, non avevano la cultura, molti erano anche analfabeti, e quindi la presenza di un missionario in loco per poterle aiutare a inserirsi nella società era estremamente providenziale. Un'idea grande di Monsignor Scalabrini. Ecco, padre Giovanni, Scalabrini fece anche comprendere, ma era parecchio un anticipo anche sui tempi, con questo messaggio, diciamo così, che se correttamente affrontata, incontrata, l'immigrazione può essere una risorsa straordinaria. Ora, tutto questo si adatta perfettamente anche ai nostri tempi, tempi di dolorosa migrazione. È verissimo. Mentre la società, anche i documenti pontifici, vedevano l'immigrazione soltanto in modo negativo, sofferenza, disagio, povertà, eccetera, che era anche questo, era soprattutto questo, Scalabrini parla di elementi positivi. Benessere per la società di arrivo e la società di partenza. E quindi vedeva l'immigrazione come una possibilità di sviluppo della persona, di integrazione con la società, di portare le proprie ricchezze culturali e inserirle nella società di arrivo. E tutto questo è positivo e attuale anche al giorno d'oggi, anche se non lo comprendiamo bene. Era, tanto per dare un elemento in più al nostro pubblico che si appresta a festeggiare con la Chiesa, la proclamazione di un nuovo santo, era anche una persona, e forse anche per questo piace tanto a Papa Francesco, una persona molto semplice, umile, il Vescovo di Piacenza, che non voleva neanche andare in giro in carrozza. Le dirò di più la sua frase che mi ha colpito anche. Quanto avrei desiderato avere la croce di legno del missionario e non quella d'oro di Vescovo. Quindi era un missionario nell'animo e ha tradotto questo suo desiderio di missionarietà proprio nelle sue opere, fondando la congregazione di missionari di San Carlo, le sue missionari scalabrignane di San Carlo Burromeo e una società laica, la San Raffaele, perché voleva che fosse completo la possibilità di aiutare gli emigranti e riteneva essenziale la presenza dei laici. Anzi, lui aggiungeva una cosa in più, non solo i laici, ma gli uomini di buona volontà a qualunque colore politico essi appartengono. Questo è veramente di grandissima attualità anche per il momento che attraversiamo. Grande festa per voi scalabrignani domenica. Ma anche per gli emigranti che attendono questo momento. E noi la vivremo, parteciperemo con gioia a questa giornata a cui poi TV2000 dedicherà anche il giorno successivo, una speciale puntata del Diario di Papa Francesco. Ma grazie, grazie, grazie Padre Giovanni di averci aiutato a cogliere l'importanza di questa giornata. Grazie. Grazie. Grazie.